Amici di Radio Roma Sport, ciao da Alberto Fiano, buonasera, eccoci qui con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma dopo Roma-Verona del 16 settembre, ovviamente corrente anno. Che dire, si doveva vincere e così è stato, una vittoria rotonda, un 3-0 sotto un primo tempo che ha rischiato di essere pallanuoto visto il violento di un bifraggio che si è abbattuto sullo Stadio Olimpico di Roma. Di Francesco adotta un mini turnover lanciando Pellegrini, lanciando Florenzi dal primo minuto dopo appunto 325 giorni, lanciando il turco Cengiz Under, tutti dal primo minuto, quindi veramente comunque una partita buona della Roma. La Roma ha mostrato su un campo pesante, visto la pioggia abbattente continua che è caduta giù, di avere comunque molta più gamma, insomma evidentemente Di Francesco sta curando la parte atletica e si vede che la Roma comincia ad avere più benzina nelle gambe ed essere anche più pimpante e veloce. Qualità fisiche essenziali per esprimere al meglio l'idea di gioco del mister Di Francesco. Dopodiché anche la manovra molto più fluida e si comincia a vedere il calcio che vuole il mister Eusebio, ossia con giocate in verticale per la terra in velocità, infatti il primo gol che finalmente porta al gol, al ritorno al gol, il ninja Nainggolan, ne è l'esempio. Poi anche le sovrapposizioni di Dersini, infatti proprio da una di queste nasce il 3-0 di Dzeko, ho visto l'assist di Kolorov che ha appunto fatto una delle sue scorribande sulla fascia con un preciso cross dal centro e il tapito del centroavanti Bosniaco a fare il 3-0. Quindi veramente una Roma che ci ha reso contenti questa sera, però è normale, bisogna prendere questo entusiasmo con il giusto calibro perché davanti avevi sempre una squadra come il Verona che non è che ha posto così grande resistenza e ci sorprende come per 62 minuti il miglior uomo che ha il Verona, ossia Pazzini, sia stato tenuto in panchina. Tra i singoli ottimo il ritorno di Alessandro Florenzi, veramente ha ripreso da dove ha lasciato grande protagonista in campo, grande generosità, grandi polmoni, gamba, finezze tecniche, uomo ovunque davvero. Quindi un ritorno fondamentale anche per quelle che saranno poi le sorti future della Roma nelle varie competizioni. Buonissimo anche Lorenzo Pellegrini a centro campo, ha causato anche due ammunizioni, quindi da qui si evince la buona verve che aveva l'Under 21 azzurro e anche ormai nazionale maggiore azzurro, Lorenzo Pellegrini. Anche il Change is Under ha fatto vedere cose interessanti, ha confermato ciò che già si sapeva o che aveva fatto intravedere, ossia grande tecnica, grande velocità e rapidità anche di esecuzione. Infatti l'incrocio dei pali sotto porta di Curva Nord ancora trema per il suo destro ciclonico che l'ha timbrato in pieno. Quindi una buona prova davvero. Di Francesco ne ha bisogno e poi anche le accortezze oppure l'invito a riflettere di Dzeko dopo anche un po' polemico ma costruttivo in questo caso dopo la gara con i Colsoneros ha fatto sì che Di Francesco ripetesse alcune cose. Infatti si è vinto che Nengolan gioca un po' più vicino a Dzeko almeno questa sera. Infatti è così che è arrivato al gol del 1-0 e che anche diciamo proprio tutta la squadra ha più supportato l'azione offensiva permettendo appunto a Dzeko di tornare al gol addirittura segnando una doppietta. Quindi l'unico piccolo neo è una tiratina in orecchie a Bruno Perez e a Gerson perché dopo anche una vittoria rischiare di alimentare le frizioni dello spogliatoio con un battibecco che nessuno ha capito ma poi fortunatamente lì si è chiuso. È il sordio di Scicca in campionato con la Roma. Scicca ha fatto un quarto d'ora e venti minuti diciamo dove ha fatto intravedere alcune cose buone anche una conclusione in porta centrale ben parata da Nicolas estremo difensore Scaligero. Ovvio ancora non è nella condizione ottimale ma speriamo ecco che la possa presto raggiungere. Missione compiuta la prima partita di quello che doveva essere un ciclo di tre partite per raggiungere a nove punti è stata diciamo archiviata. Ora terza a Benevento mercoledì sera non sarà affatto facile ma la Roma all'obbligo di andare lì proseguendo questo buon viatico che si è visto col Verona insomma di migliorie sotto ogni punto di vista e cogliere altri punti fondamentali per rilanciarsi ai vertici della classifica per continuare a lavorare con la giusta tranquillità e il giusto entusiasmo e poi anche la giusta convinzione perché la convinzione è fondamentale per raggiungere i traguardi che uno si prefigge ma sembra paradosso viene facendo buone prestazioni e vincendo quindi ripeto è obbligatorio andare a Benevento e anche affrontando difficoltà che sicuramente ci saranno cogliere questi tre punti e dopodiché solo dopo di allora pensare alla gara di sabato qui all'Olimpico contro l'Udinese. Per questo intervento del post Roma Verona è davvero tutto da Alberto Fiano qui su Radio Roma Sport vado velocemente ai saluti a Roberto De Angelis che con Stefano Tini ogni venerdì pomeriggio mi dà il piacere di partecipare a questa e la Roma la loro trasmissione radiofonica in diretta su Radio Bomber, LDA Radio 1, Stop Radio e vi dicendo do un saluto al mio amico conduttore degli inascoltabili due volte il microfono d'oro Nicola Caprera di Radio Italia anni 60 che anche lui mi dà l'onore di essere ospite un saluto a Claudio Capuano di conduttore della trasmissione televisiva su 7 gol del sabato pomeriggio dalle 12.30 alle 14 di S Roma. Do un saluto anche alla mia amica giornalista nonché ex Gazzetta dello Sport grande difusa della Roma Natania Di Porto. Do un grande saluto al mitico conduttore di Massimo Ruggeri della Signora in Giallo Rosso che ha avuto l'onore di essere ospite giovedì sera e al suo braccio destro Filippo Biafola di Pagine Romaniste dove ho anche qui l'onore e il piacere di scrivere dei miei pezzi su questo sito web. Do un grande saluto anche agli amici con cui ho vissuto una buona esperienza lo scorso anno di Roma del Credio, Fulvio Picozzi e Andrà in Materia. Spero di non essermi dimenticato nessuno. Ah sì, anche un grande saluto al mio amico Guglielmo Timpolo se sono in questo mondo lo devo a lui perché è lui che mi ha lanciato. Se mi sono dimenticato qualcuno o Chiodovenia comunque un abbraccio a tutti quanti e appresso a risentirci qui su Radio Roma Sport per il punto sulla Roma di Alberto Fiano. Chiudo curandovi una buonanotte un buon weekend e soprattutto con l'immancabile ovviamente. Dai, Roma, dai!